Con le dimissioni di dieci consiglieri comunali è decaduta l'amministrazione di Arona di Federico Monti. Ora ci sarà il commissariamento sino alle elezioni del prossimo anno, la comunicazione in una diretta Facebook del sindaco Monti. Questa mattina, ha detto, ho avuto notizia che si sono dimessi. Sostanzialmente dimettendosi Ferruccio Cairo, Daniele Casazza, Monica D'Alessandro, Piero Dippolito, Antonio Furco. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.